Palla mano a Merano con lo stesso spirito battagliero ma la Team Network Albatro alla fine cede le armi. Torna in campo la Serie A Gold e per la ASD Albatro Team Network contro il Merano fuori casa arriva un no stop. Nella non aggiornata di ritorno per il Seracosano a Merano era assente Jan Gorela, fermato per due turni dal giudice sportivo. Puccio Jung aveva lavorato molto sugli schemi da contrapporre alla squadra altotesina e non ha risparmiato ripetizioni costanti necessarie ad affrontare le variabili di gioco che si presentavano. Partita a senso unico a Merano dove i padroni di casa battono a Team Network Albatro per 36 a 23. Seracosani sorprese all'inizio degli uomini di Prantner che sembrano viaggiare con una velocità superiore e con una intesa ai limiti della perfezione. Il set di Puccio Jung prova ad affidarsi a sfondamenti centrali che però si infrangono contro la difesa altotesina in alcune circostanze aiutate da qualche errore dei siciliani. Il secondo tempo non cambia il registro e il vantaggio per la quarta forza del campionato si assesta e si mantiene sul più 13. Per i seracosani adesso testa puntata la prossima settimana con due incontri importanti. Si inizia mercoledì in casa contro il Fondi degli ex Canete Freji, il Fondi che ha vinto sul Carpi e si continua sabato facendo visita al rubiero battuto invece in casa dalla Campus Italia. Con gli Emiliani come deciso in settimana della federazione si ripeterà il match sospeso dopo il ritiro dal campo della squadra di Luca Galluccio. L'incontro verrà rigiocato mercoledì 12 aprile alle 19 alla palestra Acradina Pino Corso.